Preside Benedetta Rostan, anche l'Istituto Degni di Torre del Greco partecipa alla manifestazione ai tesori nascosti della campagna in programma sabato 7 maggio. Che cosa avete organizzato? I ragazzi faranno da guida i visitatori attraverso un percorso organizzato, cioè si partirà dal Museo del Corallo fino alle Centofontane, Palazzo Baronale e Villa Sora. Riscoprire e conoscere tesori nascosti dal valore inestimabile ma anche e soprattutto offrire nuovamente il valore del vivere civile e ritrovare il senso di comunità. Con questo spirito gli studenti dell'Istituto Degni saranno protagonisti in veste di ciceroni per condurre i visitatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e preziosi della città di Torre del Greco. È un progetto organizzato con la rete dei licei artistici e quindi è un'occasione annuale che da un po' per la pandemia non era stata più attuata. È un'occasione attraverso la quale finalmente si ritorna insieme a guardare da vicino quelle che sono le bellezze e il valore del vivere civile della nostra comunità e la riscoperta dei nostri tesori anche agli occhi dei nostri giovani che così abbandonano la solitudine pandemica e la solitudine del device per conoscere e vivere le emozioni attraverso la bellezza. Far conoscere dunque e valorizzare il patrimonio storico artistico di questa città quindi rivolgendosi ai giovani ma i giovani stessi saranno i protagonisti. I giovani stessi saranno i protagonisti. In realtà c'è stato un lungo lavoro, un lungo percorso di approfondimento degli argomenti. I ragazzi sono molto molto emozionati e soprattutto quando si mettono in gioco in queste occasioni si sentono gratificati e quindi aumenta l'autostima dei nostri ragazzi e soprattutto una visione di futuro più positiva quindi la possibilità anche di pensare che forse questo potrebbe essere un loro lavoro futuro, la possibilità di evolversi dal punto di vista professionale, chissà. L'accesso a questi siti sarà gratuito, ricordiamo in che orari è possibile visitare. Allora noi vi aspettiamo dalle 9 alle 13 di sabato 7 maggio e vi aspettiamo numerosi, vi accoglieremo con i nostri colori, con i nostri artisti, con i nostri studenti e soprattutto con il nostro amore per la nostra città.